Lo sapete benissimo perché con il primo canale abbiamo sempre discusso di questi argomenti, noi sono oltre 10 anni, 12 anni che continuiamo a dire, a condannare in maniera ovviamente corretta, le scelte assurde fatte dai governi di tagliare le assunzioni nelle forze dell'ordine in generale, in particolare nella polizia. Noi abbiamo fatto 10 anni senza concorsi per agenti, tant'è vero che tra parentesi noi ci troviamo con un gap generazionale importante, voi avete fatto due servizi sugli ultimi due colleghi che sono andati in pensione, i più vecchi delle volanti, non c'è, manca la parte centrale riferita all'età, quindi noi abbiamo oltre a questo poi questo gap generazionale, è creato da che cosa? Dalla mancanza di assunzioni per 10 anni. Questo cosa ha portato? Ha portato sicuramente a un decremento della forza di polizia in Italia in generale e ovviamente noi parliamo di Genova, in particolare della nostra... Non c'è stato complessivamente un calo negli ultimi anni di personale? Non c'è stato un calo, in pratica c'è stato un calo perché intanto è un disegno e poi se abbiamo tempo lo diciamo, è un disegno che nasce da qualche anno, quello che i poliziotti devono essere di meno. In una gestione, come possiamo dire, vista dall'esterno potrebbe dire vabbè un po' meno uomini perché bisogna risparmiare, ma in realtà non è così, noi la sicurezza non la possiamo fare con il risparmio, come non si può fare con il risparmio? La scuola e la sanità. Noi le chiamiamo le 3S, da quando è nato il SAP noi le chiamiamo le 3S. Sicurezza, scuola e sanità non devono essere un costo, ma devono essere un investimento. Cosa succede? Questi quattro uomini di cui parlavi al giorno, perché noi garantiamo due turni su quattro, vuol dire quattro uomini, vuol dire 120 uomini al mese. 120 uomini al mese tradotto vuol dire 60 pattuglie ipotetiche. Che si tolgono dalla strada e si devono mettere ferme lì. Che si tolgono dalla strada e bisogna metterli. In realtà diciamo che sono ragazzi, colleghi che fanno tutti i tipi di vigilanza, ma se ne abbiamo un'esigenza di mettere più macchine per strada, perché questi due colleghi non li possiamo impiegare per fare una pattuglia? E questa è la domanda, è la risposta tecnica al perché lo stiamo facendo. Ma perché i militari non ci sono più? Perché, questa è la motivazione ufficiale, in nome della guerra una parte di militari, circa 20 mila in Italia su 70 mila, sono stati richiamati, diciamo in termine tecnico non lo so spiegare, all'addestramento di nuovo. Sale la tensione, sale la tensione, quindi i militari. Questo però, ripeto, in una città come Genova, che fa già fatica a mettere le volanti per strada e a garantire tutti i servizi che poi i cittadini giustamente chiedono. Certo. Perché quando io leggo che l'associazione pescatori chiede un presidio fissa al portantico perché vanno a rubare sui pescherici di notte, hanno ragione, ma questi signori che fanno un lavoro eccezionale e ci mancherebbe altro, devono sapere che non è per colpa nostra che noi riusciamo a garantire la vigilanza. È un disegno adottato dai governi passati, speriamo che nei prossimi chiunque lo faccia si inverta la tendenza, per il quale il numero dei pensionati, dei poliziotti che vanno in pensione, non viene sostituito in toto dai nuovi. Tanto per fare un esempio, ne abbiamo parlato per telefono, i commissariati cittadini secondo il nuovo decreto del capo della polizia, quindi commissariato centro, commissariato pre, San Fruttuoso, Cornigliano, sono tutti in sovrannumero. Sovrannumero significa che se oggi, facciamo un esempio, il commissariato centro ha 60 uomini, devono diventare 50. il commissariato pre, il nome dice tutto, da 43 devono diventare 35. Allora la domanda credo che dovrebbe sorgere spontaneamente, ma se non ce la facciamo oggi, come potremmo fare, come faremo, non come potremmo fare, perché tanto dobbiamo andare a regime in due anni, come faremo a fare i servizi istituzionali previsti per noi, che non è solo la pattuglia. Quando noi andiamo al commissariato per fare la domanda per un passaporto, e lì avremo degli uomini di meno. Quando noi andiamo a fare una denuncia, e avremo degli uomini di meno, quando andremo a chiedere il porto d'armi per la caccia, avremo degli uomini di meno, di conseguenza i tempi si allungheranno. Queste sono cose che secondo me, che faccio sto lavoro da 40 anni, sindacalisti in particolare da 15, i cittadini è giusto che sappiano, ma non lo siamo dicendo adesso, non lo diciamo da oltre 10 anni. Bisogna capire che le risorse non sono infinite, bisogna lavorarci su, peraltro immagino anche che, come dire, siccome il vostro non è proprio il giornalista che sta seduto e scrive, il poliziotto è un mestiere un pochino più dinamico, tanto per usare un eufemismo, a un certo punto della carriera poi diventa anche magari più dura, più difficile, può anche darsi che gli infortuni siano più numerosi, che ci siano degli infortuni cronici che impediscono alle persone di fare certi servizi, quindi rinnovare il personale significa anche mettere un pochino più di carne giovane al servizio della comunità. Ci sono tanti fattori che sono comuni a tutti gli esseri umani, noi non siamo i robocop che si vedono in televisione, che non s'ammalano, che non prendono, purtroppo, ahimè, ci sono anche le malattie, ci sono anche le patologie, quindi il ricambio che ci dovrebbe essere non c'è, ma per assurdo anche il lavoro d'ufficio, quindi non quello sulla strada, è cambiato completamente, faccio un esempio banalissimo, il servizio investigativo che una volta vedeva gli uomini fuori, perché poi alla fine a livello informatico non è che avevi un gran che da fare, oggi la prima cosa che si fa quando c'è un reato di una certa entità è lavorare con l'informatica, con la tecnologia, le famose intercettazioni, c'è qualcuno che sta delle ore, dei giorni, a me ma quelle si sono sempre fatte, ma c'erano solo le intercettazioni, il resto stavamo fuori a fare i pedinamenti, piuttosto che, oggi, ripeto, davanti a un crimine, la prima cosa da fare è computer, cellulari e tutto quello che riguarda, e lì sono uomini che tutti i giorni stanno lì decine e decine di ore ad analizzare, telefonate, pc e tutto quello che riguarda, e quindi anche quel lavoro è cambiato, ma non è cambiato in meglio, nel senso che si lavora un po' meno, la tecnologia ci aiuta, perché ovviamente ci aiuta per certe cose, ma danneggia la parte del numero del personale. Visto che stai per andare in pensione ti trascino anche un po' in situazioni un pochino più, diciamo, borderline, perché, come dire, non dipende tutto dalla polizia di Stato o dai carabinieri, noi vi fate le indagini coordinati dalla procura, sono necessarie le denunce, sono necessarie le autorizzazioni per fare certe cose, e tante volte si sente dire, vabbè, però, non so, per esempio, i minori non accompagnati sono un problema di cui ci stiamo occupando, però si capisce che se il minore non commette reati particolarmente gravi, voi non potete nemmeno arrestarli, quindi è difficile riuscire a fermarli. Anche se li prendi in fragranza di reato, salvo che non siano reati, il furto, la rapina, lo scippo, questi ragazzi qua non è che noi li possiamo, anche perché non è che decidiamo noi di arrestarli, anche questa è una cosa che la gente dovrebbe finalmente capire. La polizia e i carabinieri non hanno il potere, intanto non è di fare le norme, perché io quando leggo sui social cosa fa la polizia, la polizia non è che fa le norme, le norme a noi ce le danno, ci danno degli ordini. Ed è giusto così, io lo dico perché non è che la polizia, gli stati, quelli brutti, appunto, ma no, ci mancherebbe altro, però è giusto che la gente finalmente capisca che noi non decidiamo di non arrestare una persona, c'è qualcun altro che decide per noi, ed è giusto così, quindi quando noi anche questi ragazzi, stiamo parlando dei minori non accompagnati, ma parliamo di tutti, noi non decidiamo se una persona deve stare o non deve stare in carcere, lo decide la magistratura sulla base di norme e leggi che anche loro hanno in disponibilità e quindi anche questo grosso problema di questi ragazzi non accompagnati, noi interveniamo, li fermiamo, proviamo a identificarli dopodiché abbiamo letto sui giornali qualche giorno fa di quel caso di un cittadino, non parliamo, bisogna dirlo, un cittadino ex comunitario perché se no il senso non è, sei volte colpito da ordini di allontanamento del paese è stato beccato in fragranza, non mi ricordo se per rapino o per spaccio, noi quando prendiamo lo straniero e non ci sono più i posti inizienti di accoglienza, cosa possiamo fare? Niente, lo segnalate, gli date un foglio, mi raccomando vai via. Guarda, te ne devi andare dal paese, sappiamo tutti che assolutamente non ce ne vanno, quindi ripeto noi poi tecnicamente abbiamo questo tipo di problema, siamo inermi rispetto a... Ho 30 secondi e in questi 30 secondi vorrei chiederti, visto che hai questa lunghissima esperienza professionale, se è peggiorata o è migliorata la situazione della sicurezza a Genova, la sensazione è quale? Perché il numero di reati per esempio sembra in diminuzione. Sembrerebbe in diminuzione il numero di reati, forse sono saliti certi tipi di reati, no? Ma io sono a Genova da 40 anni, il 21 dicembre fanno 40 anni che sono a Genova e non ho mai visto una città particolarmente, come possiamo dire, pericolosa da un punto di vista io la vedo più o meno sempre uguale. Certo cambiano degli scenari e ultimamente ci troviamo ad affrontare questo tipo di problema. Salgono per esempio alcuni reati tipo scippi anche nelle vie centrali, anche in orari. Però questo ce lo dobbiamo dire, è dovuto anche, è una mia opinione, ci mancherebbe altro, ma è dovuto anche al senso di impunità che comunque è radicata nella gente. Cioè ormai noi sappiamo che qualsiasi tipo di reato difficilmente finisce in galera. Quindi uno che è abituato a delinquere o che ha la volontà di delinquere. E che problema ha fare lo scippo, il fruttarello, la rapinuccia? Tanto sanno che lo prendi, lo denunci a piede libero e quella pena... Grazie.